È così nebbioso. Spero di non colpire nulla intanto che cerco mia moglie. Oh, un bagno? Tempo per me di fare la cacca. È una faccia divertente. Ah, ehi? Non puoi fare quella cosa, è proprietà pubblica. Ehi, tu sei Maria, mia moglie. Pensavo che tu fossi morta. Wow, e tu cosa ci fai qui? Faccia divertente. Forza, andiamocene da qui. Sono venuto cercando mia moglie, ma era troppo bello per essere vero. Ma comunque ho trovato qualcosa molto più significativo. Grazie. 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 Grazie.